Siamo nella zona mista del polivalente appena terminata meta c5 contro Real Matera risultato di due a due nel finale siamo con uno dei protagonisti con l'universale lo chiamiamo così il capitano il capitano Musumeci due gol importantissimi nel giro di due minuti sarebbe stata una beffa perderla sì diciamo noi abbiamo fatto una buona partita loro erano schiacciati dentro e quando le squadre vengono a giocare così è difficile penetrarle senti nel primo tempo come detto bene tu loro schiacciati molto bassi cercavano di ripartire non l'hanno fatto quasi mai Tornatore ha fatto due parate ottime per carità però quasi quasi inoperoso in quel caso forse un po' di cattivere in più cosa? No no noi abbiamo giocato abbiamo fatto una nostra partita quello che ci è mancato è stato il gol sottoporta che non arrivava tiravamo da tutte le parti loro coprivano bene la palla e per fortuna queste partite si possono anche perdere per fortuna che sono arrivati questi due gol e abbiamo portato almeno un punto a casa ecco è una meta che continua la serie positiva la vittoria di Salinis questo pareggio due a due con Real Matera è la partenza che forse tutti volevano perché lo ricordiamo siete sempre una matricola che siete arrivati in un campionato difficilissimo come la due sì noi affrontiamo partita dopo partita non facciamo calcoli non abbiamo non ci mettiamo se ci salviamo dobbiamo salire noi giochiamo partita dopo partita con la Salinis abbiamo fatto un'ottima prestazione una prestazione di gruppo quello che siamo e adesso derby adesso derby ora ci prepariamo questa settimana con tranquillità l'importante non era perderla questa partita ci siamo riusciti e ora ci prepariamo ci prepariamo per questo per questo derby grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti